E' stata avviata la bonifica della spiaggia di Randello, dove l'azienda forestale competente ha provveduto alla raccolta ed accatastamento all'esterno dei propri capannoni di chili di tubi, alcuni in stato di decomposizione ritrovati e poi sfilati da sotto le dune di sabbia, grazie all'impiego massiccio di mezzi e uomini. A darne notizie il comitato spontaneo Randello Libera, che non nasconde la propria soddisfazione che si attribuisce il merito della bonifica, alla luce della pubblicazione del proprio video intitolato «Tuboldia discarica Randello». La segnalazione era stata effettuata nei confronti sia del soggetto titolare del piano di gestione dell'area SIC, sia dell'amministrazione comunale di Ragusa e dopo un iniziale silenzio ora qualcosa si è mosso con questa operazione di bonifica. Tuttavia Randello Libera si chiede se tutta l'area interessata dallo scempio sia stata completamente bonificata, anche in considerazione del fatto che probabilmente era la stessa azienda forestale che negli anni passati aveva posizionato quei tubi neri in plastica sotto la sabbia, per progetti che, visti i risultati, si possono definire di dubbio efficacia ma di molta spesa. In ogni caso il comitato invita anche i cittadini a verificare lo stato della bonifica e a vigilare con una presenza attiva sicuramente la garanzia migliore per la difesa del bene comune.